Quindicesima bandiera blu per gli approdi turistici assegnata a Marina di Camerota. Anche quest'anno la FE ha premiato il porto cilentano, che è il più longevo della campania, per questo riconoscimento. Il prestigioso vessillo sarà issato sul porto di Marina di Camerota, premiato per la qualità dei servizi e l'attenzione per la gestione sostenibile delle attività legate al di porto. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale con delega al porto Alfonso Esposito. La bandiera blu degli approdi turistici è ormai un riconoscimento consolidato per la nostra località e siamo contenti per questa riconferma. Dal punto di vista paesaggistico, la novità di quest'anno è stata la rimozione del carroponte, troppo impattante dal punto di vista ambientale e che siamo riusciti a realizzare dopo anni di attesa. Per la località cilentana si tratta del secondo riconoscimento del 2015, dopo la bandiera verde assegnata dai pediatri italiani che ha indicato Marina di Camerota tra le migliori spiagge italiane per bambini.